buongiorno mi chiamo fabiola e sono un estetista del centro fashion team oggi vi presento un massaggio che solitamente eseguo in questo centro ed è un massaggio rilassante abbinato a delle tecniche di massaggio a iorvela questo tipo di trattamento mantiene la pelle giovane e in buono stato di salute l'olio che utilizzerò per questo trattamento si chiama primula della notte è un olio arricchito di vitamine che mi permette lo scorrimento abbinerò a pioggia gli oli essenziali tra i quali africa che è un concentrato per le zone da trattare in maniera in maniera più specifica ansia è un concentrato per la prima cellulite ad azione e drenante tonificante e rigenerante europa è un contratto di oli essenziali che mi permette di alleviare lo stress liberare la mente e dare energia alla mente alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.